Sì, è molto grosso. Perché è un continente l'Asia. Ti ricordi cosa vuol dire Fair Trade? No, mi ricordo perché me l'hai detto tante volte. Aiuta le persone che lavorano a ricevere i giusti soldi per il loro lavoro. Cerchiamo la cannella qua? Sì, la cannella. La cannella. Guarda che bella pianta. Ma perché le vogliamo un po' grosse? Ma noi la usiamo la cannella dove? Cina. Perché la colteccia? Eh, perché è quella che è la parte buona. Buongiorno. Ciao. Cosa facciamo oggi? Il budino. Il biancomangiale. Si chiama questo budino. È buono? Il biancomangiale. Il biancomangiale. Ok, prendi il mixer. Mettilo qua sopra. Cosa usiamo? Le bandole. Per fare cosa? Eh, non lo so. Il latte. Di avena. No. Il latte di mandoletta. Non devo dire. Cosa abbiamo messo adesso? L'acqua. Mixer. E adesso faccio tutto io. No, insieme si fa. E io. Oh! Du 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 du! Oh! Du 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 du! Spegni. Ok. Grazie, non mi. Perfetto. Perfetto. Oh, perfetto. Ah, secondo me. Se boccato. Ha fatto così, no? No, adesso non è un po' scherzato. Ma perché tu lasci così? Ma perché la metti sempre qua? Si, c'è il latte e rimane dentro la fibra. Cos'è fibra? Dopo te la faccio vedere. La fibra è la parte solida. Ok, guarda. Oh! La polpa della bandola che è rimasta. Ecco qua! Eccola. Sì, guarda qui. Sì, guarda qui. Sì, guarda qui. Cos'è questo? Perché perci tutto questo? Va! No, vai. Ok, adesso dobbiamo togliere la buccia del limone. Sì, guarda qui. Ma perché lo fanno solo la mamma e il papà? Il fuoco lo sapete che è? Io sto sempre attento col fuoco. Sì, lo so. Però adesso non è il momento. Adesso devi cucinare il pudino, no? Ma sì. Non c'è male. Ma i commetti a aiutarlo? Sì. 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 Allora, io devo stare un po' sul divano. È pronto? Sì. Questa è la più buona che mi piace. Cosa stai mettendo? Sto mettendo i biscotti. Intanto non scurtarti. Che buona. Un ucciolo. Mmm. Che delizio. È delizioso? Sì. La cannella. Me la fai vedere? Sì. Mmm. Che delizio. Quello bianco. Pianino, né? Sì. Vai. Così col dito andava bene. Da dove viene la cannella? Eh, dall'aia. Dall'asia. Ho detto l'aia. Adesso dove lo mettiamo? È in frigo. No, è frigo. Lumi? Mmm. Buono? Perché è duro questo? È pronto? Sì. Com'è? Buono. Non mi piace tanto. Buono Alma? Oh. Io vado bene. No. Com'è Alma? Alma. Buono? Buono. Com'è? Mmm. Buonissimo. Oh, c'è. 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 Grazie per la visione!